Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e agli aggiornamenti. Apriamo con una notizia di cronaca tremenda tra una tragedia a Santo Stefano di Cadore. Un'automobile è uscita di strada investendo tre persone. Il bilancio è gravissimo. Due persone sono morte e un bambino è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in via Udine, una via centrale di Santo Stefano di Cadore. Tra l'altro in quel momento il centro cittadino era molto affollato. L'auto ha colpito una famiglia di cittadini stranieri che si trovava in vacanza nelle montagne bellunesi. I soccorsi sono stati veloci purtroppo, però non c'è stato nulla da fare per le due persone che hanno riportato delle lesioni troppo gravi. Il bambino è stato trasportato all'ospedale dove le condizioni sono state giudicate gravi. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quello che è accaduto. E parliamo di un altro gravissimo incidente, quello che ha visto la morte del ciclista Davide Rebellina. Torniamo a parlare di questa tragedia. È stata concessa l'estradizione in Italia del camionista tedesco che lo ha investito. I due paesi ora dovranno mettersi d'accordo e concordare la data di consegna dell'indagato. Per il giudice di Vicenza, l'uomo che era alla guida del mezzo pesante, non ha alcun rimorso. E adesso andiamo in provincia di Padova, Vigonza, dove la polizia locale ha pizzicato un immigrato che circolava alla guida di un monopattino modificato. Guardate. A Vigonza, la polizia locale ha pizzicato un cittadino extracomunitario alla guida di un monopattino modificato. Il mezzo aveva una sella alta 80 centimetri, considerato come un ciclomotore e ovviamente modificata anche la velocità. Alla vista della polizia, il conducente ha tentato la fuga, ma è nato un inseguimento al termine del quale i poliziotti lo hanno bloccato. L'uomo, 28 anni, è stato sanzionato per guida senza prescritta patente, senza casco, per avere un mezzo privo della prescritta immatricolazione, targa e per giunta senza assicurazione. La multa arriva a 6.000 euro. Il monopattino è stato sottoposto a sequestro e destinato alla confisca. La notizia è stata ripresa anche dal ministro Salvini con un post sui social e ha commentato così più controlli e sanzioni certe per chi usa mezzi illegali e pericolosi e con il nuovo codice della strada, casco, assicurazione e targa per tutti i monopattini. La scorsa notte tre correntisti sono stati salvati dal soccorso alpino e speleologico in Veneto. L'intervento è avvenuto in provincia di Verona, all'interno del Vaglio dell'Orsa, a Brentino, dove i tre, dei quali uno infortunato, erano rimasti bloccati. Sono stati momenti terribili, erano bloccati all'interno senza poter comunicare con le forze di soccorso e ne potevano chiedere aiuto. A dare l'allarme è stato un amico che non li aveva visti rientrare. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno fatto suonare il cellulare di uno del gruppo, hanno sentito il suono dentro un'auto e da lì le ricerche sono diventate più intense fino a quando hanno individuato il punto esatto. Sono state operazioni di recupero molto complicate. Buone notizie arrivano per i lavoratori della Safilo. Salvati i posti di lavoro di tutti i 458 dipendenti dell'azienda di Longarone che saranno integrati in altre due aziende, mantenendo dunque la loro attività. Sono stati mesi difficilissimi ma che hanno raggiunto un risultato ottimale. Mentre oggi a protestare a Venezia, 224 lavoratori del Consorzio Venezia Nuova che non vedono il loro futuro, si sono ritrovati in campo San Maurizio. Nello stesso momento in prefettura era in corso un incontro per discutere il futuro di queste persone. E adesso ci spostiamo in provincia di Padova. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al Comune di Trebaseleghe il titolo di Città di Trebaseleghe. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al Comune di Trebaseleghe il titolo di Città di Trebaseleghe. È con grande gioia, onore e orgoglio che vi annuncio insieme con la Giunta e col Consiglio Comunale che il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato e concesso al nostro Comune il titolo di Città di Trebaseleghe. È una richiesta che questa amministrazione ha presentato al Capo dello Stato tramite la Prefettura che ha comportato un lungo lavoro accurato di raccolta di tutta la documentazione che testimonia come Trebaseleghe con la sua lunga storia, con i suoi beni artistici, culturali e con lo sviluppo che ha avuto negli ultimi decenni, ha davvero meritato questo titolo di città. Un titolo che rappresenta un riconoscimento ufficiale alle generazioni passate e attuali che hanno dato tanto al territorio, afferma il primo cittadino. Trebaseleghe si trova in una posizione strategica, conta circa 13.000 abitanti, vanta una realtà invidiabile a livello agricolo, ma Trebaseleghe è anche una realtà industriale molto molto importante. Una città che nell'ultimo anno, grazie alla gestione del PNRR con la guida dell'amministrazione Antonella Zoggia, sta portando un ulteriore sviluppo e innovazione al territorio, con progetti ambiziosi che presto saranno realtà a beneficio di tutta la cittadinanza. Il titolo di città rafforzerà l'identità della nostra comunità e ci porterà valorizzazione di tutte le nostre attività produttive, sociali, culturali, sportive. Più avanti festeggeremo insieme questo avvenimento e questo titolo, ma intanto possiamo affermare che siamo sempre più orgogliosi di essere Trebaselicesi. Una notizia sulla viabilità al via al completamento della terza corsia nei primi 5 km del tratto di cantiere Alvisopoli-Porto Gruaro in A4. Saranno possibili code e disagi. L'obiettivo di Autostrade Alto Adriatico è concludere i lavori in questi primi 5 km entro la fine di luglio, ovvero prima del grande esodo estivo. Novità a Padova per l'esecuzione dei prelievi del sangue nell'area dell'Ulsei e Uganea. Nei presidi di Cittadella, Campo San Piero, Piove di Sacco, Schiavonia e quelli delle sedi di Montagnana, Conselve e del Centro Sociosanitario I Colli di Brusegana si potrà andare anche senza prenotazione. Sarà sempre possibile prenotare, ma non sarà indispensabile. Nel punto prelievi dovrà essere ritirato il numero progressivo in specifici orari. Successivamente apriranno all'accesso diretto anche i più grandi punti prelievi del territorio. Tutte le notizie comunque nel dettaglio sono consultabili nel sito www.auls6.veneto.it. E adesso continuiamo con altre notizie. Parliamo di un giallo che arriva dalla città di Padova, dove nella notte le fiamme hanno distrutto due moto parcheggiate. Giallo nella notte in via Fornaci a Padova. Pochi minuti prima del luna hanno preso fuoco due moto regolarmente parcheggiate in strada. Le fiamme sono state notate da alcuni residenti che hanno prontamente allertato i numeri di emergenza. L'incendio non ha provocato feriti, ma un'abitazione ha subito alcuni danni agli infissi. I pompieri hanno transennato l'area per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi pericolosamente al luogo del rogo. L'attività di messa in sicurezza è proseguita poi fino alle tre. La situazione è tornata quindi alla normalità. I proprietari dei due mezzi andati completamente distrutti sono stati sentiti dalle forze dell'ordine. Gli inquirenti al momento non escludono alcune ipotesi, compresa quella del dolo. Il nucleo operativo della Guardia di Finanza del gruppo di Bassano del Grappa ha eseguito un ordine di perquisizione del Tribunale di Vicenza negli uffici di Etra a Cittadella e a Bassano del Grappa. La società ha assicurato la massima collaborazione. E adesso parliamo di un incendio spento dai vigili del fuoco, un incendio di un mezzo pesante sull'autostrada del Brennero. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma sentiamo cos'è accaduto. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per spegnere l'incendio di un mezzo pesante che trasportava un gruppo elettrogeno sull'autostrada del Brennero A22 in direzione sud nel comune di San Giorgio in provincia di Mantua. Illeso l'autista. Impegnate sul posto squadre dei vigili del fuoco di Verona con un'autopompa e un'autobotte con il supporto di un'autobotte del comando di Mantua che in poco tempo hanno spento le fiamme ed evitato la propagazione del rogo all'auto articolato dovuto allo scoppio di un pneumatico. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa due ore. Oggi la Terra tocca il punto più lontano dalla sua orbita intorno al Sole. Esattamente alle ore 21 italiane si troverà a oltre 152 milioni di chilometri dalla nostra stella. L'evento sarà celebrato anche da una particolare congiunzione che potremmo ammirare stanotte come ricorda l'Unione Astrofili Italiani nelle ore centrali. Infatti la Luna e Saturno si tufferanno insieme nella costellazione dell'Acquario. Questa è solo la prima delle congiunzioni che daranno spettacolo nel corso del mese. Tra il 10 e l'11 luglio il nostro satellite sarà in compagnia di un altro gigante Giove mentre il 20 luglio la falce di Luna si troverà accanto a Venere e a Marte. Nel 2050 in Veneto un milione di abitanti in meno. Negli ultimi vent'anni si è passati da un milione a 800 mila giovani. Sentiamo. La popolazione del Veneto è sempre più vecchia a causa di un significativo crollo delle nascite. I giovani tra i 18 e i 34 anni sono 825 mila, vent'anni fa superavano il milione. E' quanto emerge dal rapporto statistico 2023 della regione del Veneto presentato stamane nell'Aula Magna Silvio Trentin dell'Università Ca' Foscari a Venezia. A differenza delle precedenti edizioni il documento oltre a tracciare un'analisi puntuale del tessuto economico e sociale propone un focus importante sui giovani che secondo l'Istat ha sottolineato l'assessore alla programmazione bilancio Calzavara entro il 2050 potrebbero diminuire di un ulteriore 15%. Allo stesso tempo la popolazione del Veneto rischia di passare dagli attuali 5 a 4 milioni di abitanti. Ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche previste per la giornata di domani. Il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo una possibile residua variabilità notturna e nuvolosità termoconvettiva al pomeriggio ma solo in montagna. E' tutto per questa edizione ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.